I see trees are green, red roses too, I see they're blue, all me and you, and I sing to myself, all the wonderful world, I see skies are blue. Tutti si chiedono se il popolo siciliano e anche la politica abbia preso coscienza del fatto che la Sicilia goda di un'autonomia speciale. Che la Sicilia sia una regione a statuto speciale, credo che lo sappiano in molti e molti addirittura sono convinti, e purtroppo devo dire non hanno tutti i torti, che questa specialità sia il rischio di diventare un peso per la Sicilia. Sono tante le cose speciali del nostro statuto, ma ce n'è una in assoluto che distingue la nostra specialità dalle altre regioni a statuto speciale, che è la capacità che ha la regione siciliana di riscuotere le tasse. Forse non si è ancora capito, ed è incredibile come non si sia ancora capito, soprattutto non lo ha capito chi governa, che se la regione toscana, e nella regione toscana per un anno le imprese non lavorano e le persone non guadagnano e non pagano le tasse, lo Stato, essendo il bilancio della regione toscana a sostanza derivata, lo Stato darà alla regione toscana i soldi che gli deve dare. Non è così purtroppo per la Sicilia, se in Sicilia le imprese non lavorano e quindi non lavorano le persone e quindi le persone e le imprese non pagano le tasse, la Sicilia non riscuote e se non riscuote non fa il suo bilancio, perché il bilancio della regione siciliana è fatto in gran parte da risorse che riscuotiamo noi, soltanto una parte ci viene data allo Stato, quindi quando non si spendono i soldi comunitari, e sono tanti, mettiamo che non si siano spesi 4 miliardi di euro, se non si spendono 4 miliardi di euro e non parlo della spesa che attivano 4 miliardi di euro che è già tanta, parlo soltanto dei 4 miliardi, se questi soldi non si spendono, vogliamo dire che almeno il 25% di queste tasse non si pagheranno perché non si sono spese? Credo che il 25% di 4 miliardi per falla breve è un miliardo e poi cercano il buco di bilancio, dove c'è il buco di bilancio? Sta non in quello che c'è del passato, perché non si tiene un buco così grande nel passato, chi continua a dire questo vuole mistificare una realtà, dipende dal fatto che non riscuotendo le tasse il bilancio non si forma e se non si forma il bilancio si creano problemi nella spesa e nelle cose che si fanno. Adesso io credo che la speranza sia soprattutto legata non soltanto al fatto che noi siamo una regione a statuto speciale, ma nella capacità che abbiamo di utilizzare questa specialità e questa è la prima cosa, perché senza risorse, spese non c'è attività produttiva, non c'è occasione di sviluppo, non c'è lavoro e c'è disperazione che è purtroppo quella che ho incontrato andando in giro per la Sicilia. Io credo che questa scelta di oggi, di questi due miei amici che stanno facendo, stanno accentendo il riflessore, il riflettore sulla speranza, vada non solo capita ma vada aiutata e vada soprattutto considerata per quello che è un atto d'amore per la Sicilia. Di questa iniziativa dell'onorevole Vincenzo Figuccia insieme ad Adriana Vitale e a tutte le categorie di lavoratori, che cosa ne pensa? È un'attività che può dare una scossa. Io ho detto che loro con grande sacrificio e soprattutto con grande forza stanno accentendo una luce su un tema che credo non solo importante ma determinante per molti siciliani. Negli ultimi dieci anni il tasso di disoccupazione nella Sicilia è vertiginosamente salito, il PIL che sarebbe prodotto in deno lordo è diminuito, per cui sono due dati che chiaramente creano grande difficoltà a chi in questa terra ha scelto di viverci. Non sono dei dati e basta. Accanto ad ogni dato si sviluppa purtroppo una serie di tematiche che diventano pericolose. Se il PIL diminuisce, se la disoccupazione aumenta, aumenta l'immigrazione. E in Sicilia sta succedendo una cosa triste perché il flusso migratorio che è salito vertiginosamente non è più una migrazione delle persone che andavano via a lavorare e che avevano il sogno di tornare in Sicilia. Quelli che stanno andando via sono i giovani che abbiamo formato, sui quali abbiamo investito, sui quali speravamo potessero essere utili a questa terra. Questi ragazzi, i nostri laureati, i diplomati, stanno andando via portandosi con loro. Non soltanto il disegno e il sogno di produzione sui quali avevamo contato noi e sui quali avevano contato i loro genitori che sono gli stessi che erano andati fuori a lavorare e che sono tornati, ma finiranno col portare via anche una parte economica. Perché mentre i loro genitori hanno mandato i soldi per costruire le case, questi venderanno le case e porteranno i soldi fuori dalla Sicilia. Quindi questo è un tema che è legato, purtroppo, a un momento di disoccupazione che non riusciamo a risolvere. Io credo che Adriana e Vincenzo, quando parlano di speranze, quando parlano di un sogno che purtroppo si è fermato, che è il sogno del lavoro, pensano e vogliono parlare a nome di tanti siciliani, soprattutto giovani, che silenziosamente se ne stanno andando via dalla Sicilia non hanno il sogno di tornare. Anzi, hanno purtroppo l'astio e il risentimento nei confronti di una terra che non ha saputo tenerli e non ha saputo farli vivere insieme ai loro genitori. Quindi io credo che questo loro sforzo vada apprezzato e soprattutto in qualche modo vada aiutato perché questo segnale possa essere veramente un segnale di speranza. Onorevole Figuce, invece della presenza di Totò Cuffaro qui oggi, quanto è importante? È sicuramente un sostegno per questo sciopero? È importante non solo per quello che è oggi come uomo, per quello che è rappresentato in questa terra, in Sicilia, è importante anche perché è un uomo che è stato protagonista della politica siciliana, ma che ha sperimentato sulle sue carni l'esperienza del dolore, del sacrificio, di chi ha subito, di chi è stato ingiustamente portato ad affrontare la pena così come lui l'ha affrontata. Perché io voglio sottolineare questo messaggio parlando di speranza? Lo voglio sottolineare perché, caro Presidente Cuffaro, caro Totò, sto sperimentando che davvero, soltanto provando sulla propria pelle, il senso del sacrificio, del dolore, della vicinanza a chi sta vivendo una condizione di maggiore difficoltà, puoi davvero arrivare anche spiritualmente e mentalmente ad essere libero. Io ho fatto un ragionamento che molti mi dicono ma probabilmente quanta, forse non ne sta arrivando abbastanza gente in piazza, invece io devo dirti che pensavo che ne dovesse arrivare di meno. Sai perché? Perché ho fatto una scelta a mio avviso egoistica. Io mi sono voluto chiudere in questi cinque giorni in una dimensione che è quasi mistica, che è di spiritualità, che è di solitudine, ma che invece mi sta facendo ritrovare insieme a tanta gente che mi sta davvero insegnando a vedere cose che non vedevo. Ma io politica facevo, politica faccio e quindi con questa gente lo stesso ci parlavo. Però sai, parlarci sotto questa pioggia, sentire loro, perché qua c'è un microfono tutto il giorno aperto, sentire loro parlare dei problemi quando arrivano a casa, dei problemi dei figli, della speranza che non vorrebbero abbandonare ma che a certe volte finisce col lasciare spazio all'angoscia, all'arrabbia, alla rassegnazione. E poi vederli, quando invece magari ci alziamo, ci esaltiamo perché alterniamo momenti di, come dire, depressiva, momenti di euforia. E vedere loro che si alzano, incominciano come ne ho iniziato a fare prima che tu arrivassi un paio d'ore fa, guarda eravamo una cinquantina, niente di particolare, come siamo ori. E allora abbiamo incominciato a dire chi vuole che Crocetta se ne vada a casa incomincia a suonare, incomincia a suonare le macchine, fatoccelo sentire che siete nelle macchine, che la rivoluzione in questo paese si fa sui social e la depressione si vive sul divano. Ma fatecelo sentire lo stesso che siete con noi. Incominciate a suonare con quelle macchine se siete contro Crocetta. Quasi è scatenato l'inferno. Pioveva, noi eravamo tutti bagnati e la gente suonava. La gente suonava perché è passato quel messaggio di speranza che noi tutti insieme qui, attraverso la stessa esperienza che tu hai vissuto, non la vogliamo paragonare, a quello che tu hai dovuto vivere per cinque anni. Ma piccolo piccolo, provando ad immaginare tutto insieme questo momento di insieme, di solidarietà, siamo riusciti a vivere la speranza e a pensare che, certo, con strumenti concreti che passano attraverso norme, attraverso variazioni di bilancio, qualcosa in questa terra si può fare. Si può fare perché noi ci vogliamo continuare a vivere e ai nostri figli pure. Io ti ringrazio per essere venuto. Sono, diciamo, anche un po' emozionata perché venire qua e venirci a trovare in un momento che veramente non è il tuo dolore, perché il tuo è stato immenso. Il nostro è un piccolo dolore e voglio anche rettificare. È lui che si sta caricando. È Vicenza che si è caricato la croce di tutti i problemi. Io sono qui egoisticamente per il mio problema. Per il mio problema perché è un problema della perdita della dignità e non è un problema solo di pane, è la dignità. Mi hanno frantumato il mio progetto di vita, mi hanno distrutto il mio futuro, il futuro dei miei figli. Facciamo i salti mortali per andare avanti. E un'altra cosa che voglio dire è che la rassegnazione è la morte e io non voglio morire, voglio vivere. Voglio far vivere i miei figli. Federico II è la pianta del frutto e del send. Questo è il titolo della manifestazione culturale che si è svolta oggi a Giuliana, di cui l'autore e il regista Rocco Chinnici. Questa è una manifestazione di intrattenimento? Sì, ho voluto creare un evento un po' diverso dagli altri che si solgono fare in giro con le famose sfilate castellane o altre cose del genere. Perché visitare un posto solo con la sfilata è una cosa che finisce nella sfilata. Invece è un posto dove tu ambienti, crei una storia, una favola, dove è ricca anche di storia federiciana. Dico, certo, mettendogli anche un po' di fantasia. Il discorso della pianta, per esempio, che l'uomo si abbraccia a tutti questi simboli o oggetti vari per diventare importante, mentre poi, dico, il vero senno è dentro di noi stessi. Dico, il frutto è solo una fesseria che tutti tramandiamo. Io mi abbraccio alla religione, io mi abbraccio ai partiti, io mi abbraccio a quello, invece dobbiamo abbracciarsi prima di tutto a noi stessi. E quindi ho creato questo evento perché la gente visitasse e conoscesse anche costumi, ma conoscesse di più la storia per rendersi conto che, prima di tutto, in ogni caso, deve sempre amare prima se stesso e conoscere se stesso e poi promuovere le cose degli altri. Questa è la Castellana, racchiusa all'interno di una cornice fiabesca che è quella di Giuliana. È davvero uno splendido spaccato di quella che è la Sicilia che vorremmo. La Sicilia che noi tutti vorremmo costruire giorno dopo giorno attraverso questi splendidi spettacoli che ci consentono, come diceva bene il regista Chimici, di attraversare questo piccolo centro ricco di cultura attraverso una storia, un racconto che tra l'altro appare oggi più attuale che mai. Oggi che è la perdita dei valori della società che è in un lento declino, la crisi economica che porta tutte le famiglie, un po' la società civile ad avere grossissime difficoltà. Ecco che allora mi sembra veramente un invito quello del nostro regista che ha ideato tutta questa storia da raccogliere tempestivamente per comprendere quanto il senno è davvero dentro ciascuno di noi e non va ricercato in cose futili o insomma nell'apparenza quanto piuttosto in qualcosa di irreale. Oggi più che mai in questo luogo fantastico potremmo ricercarlo forse nella cultura, nei valori, nei fantastici, spaccati che la nostra terra è capace di offrirci. Ecco allora mi sento di dire che la Sicilia che vorremmo è questa, la Sicilia che vogliamo è proprio questa, quella di un sindaco, quello di Giuliana, Mario Musso, che con piccole e semplici risorse, con l'aiuto di un uomo di grande cultura, riesce a realizzare una favola, una favola dei nostri giorni, richiamando i valori, i valori di un tempo, le tradizioni, le persone del centro che sono state coinvolte, ognuna con i propri abiti, ricostruendo tastello per tastello quella che era la vita di un tempo e attualizzandolo attraverso questa bellissima storia. Oggi noi abbiamo questa grande possibilità di avere questo grandissimo castello di Federico II e dobbiamo cercare di attivarci e investire su questo castello. Oggi ho avuto una grossa fortuna di conoscere il nostro maestro Rocco Gennici che ci sta dando tutte queste possibilità di fare in modo che questo piccolo paese, Giuliana, che ha grandi risorse, grazie sempre a questo castello, ma c'è pure l'Operapia e quindi noi, ripeto, stiamo facendo un grosso investimento proprio per fare in modo che vengano a Giuliana a visitare il nostro piccolo paese perché è uno splendido borgo che viene qua a Giuliana e tranquillamente arriverà entusiasta di vedere tutto quello che noi abbiamo in questi piccoli paesi. E ripeto, grazie a Rocco Gennici tutto questo si sta avverando e quindi io voglio invitare personalmente tutti i cittadini, tutte le persone che vogliono venire a vedere questa fantastica favola perché è una favola veramente ed è bello esserci perché sempre io dico non è bello sentirlo raccontare, è bello vederlo di persona. E questa meravigliosa favola non finisce qui perché si svolgerà anche in altri giorni. Sì, e allora la favola sarà, continuerà domani sera, giorno 11, poi sabato prossimo 17 e 18 settembre. quindi rinnovo l'invito a tutti, non perdete questa grande occasione di venire a Giuliana a visitare il nostro grande paese, piccolo o grande che sia, però vi voglio dire venite, venite in massa perché ci aspettiamo una grande affluenza, sempre per fare in modo che vengano a visitare il nostro piccolo paese. Giuliana è davvero ricca di opere d'arte, di tradizioni e di cultura. Il castello di Federico II ne è un esempio lampante. Giuliana è il più piccolo comune della provincia di Palermo al confine con la provincia di Agrigento. E, devo dire, arrivare a Giuliana credo che siano oltre 100 chilometri da Palermo. Da quando non c'è più la provincia regionale, chiaramente io mi sarei aspettato da consigliere metropolitano a farmi dire sindaco, dire che siano tanto bene e tu lo sai. Mi aspettavo una presenza forte del sindaco metropolitano Orlando, il quale paradossalmente è pure originario di queste zone della provincia ex, provincia di Palermo. Mi dispiace per lui e ha perso un'occasione. Sei grande sindaco, ti vogliamo tutti bene. Dalla sua corona si intuisce bene che lei interpreta il re Federico II. Ci descriva un po' questo ruolo. Esattamente, interpreto questo ruolo. Quest'anno Rocco Chinnici mi ha dato l'opportunità di fare questa parte. Come prima cosa è davvero emozionante, anche perché ci si trova in dei luoghi suggestivi, penso, pochi in Sicilia. Mi sento davvero onorato di questa parte e spero di farla con tutte le forze che ho, insomma. Quindi è la prima volta che si butta in questa avventura storica. Come Castellana, sì. In precedenza abbiamo fatto il PSP vivente, non so se si sapeva in giro. L'abbiamo fatto l'anno scorso, siamo arrivati secondi in Italia, primi in Sicilia. Direi che sono degli ottimi risultati per essere la prima volta, con tutte le persone nuove che sono poco preparate in merito. Penso che bisogna lavorare per arrivare ad altri risultati più ottimali. Quindi tu interpreti il ruolo di una danzatrice araba? Sì. Io con le mie allieve stiamo proprio interpretando questo ruolo in quanto nel periodo di Federico II c'erano proprio queste danzatrici arabe che intrattenevano gli ospiti e il re. E sì, tutto si manifestava all'interno di questo castello? Sì, ovviamente. Erano molto, molto gelosi le loro danzatrici, quindi sì. All'interno di questa manifestazione vengono rappresentati anche i falchi. Che significato hanno all'interno di questo evento? È un significato importante e determinante perché Federico II è stato il primo maestro falconiere. La falconeria esiste anche grazie a lui. Lui ha scritto un libro che si chiama De Arti Venandi Cum Avibus che ancora oggi è il manuale che usano tutti i falconieri non solo per imparare la falconeria ma anche per risolvere un problema se eventualmente c'è. Lei ha preparato questo fantastico e buonissimo bollito? Sì. Come ci descriva la preparazione? La preparazione è nella magellazione della pecora genuina delle nostre campagne e poi viene bollita con cambio di acqua si mette sedano cipolla carote uno del tutto pepe tutto e patate Ed è una tradizione? È una tradizione, sì del nostro comune. E si la prepara in occasione di questa festa? Si prepara in occasione di questa festa e pure per il presepe di Giuliana. La signora quindi è un'eccellenza di Giuliana? È un'eccellenza e come? Dico pure di più perché grazie a lei e altre quattro persone come lei e alle amiche come Giuseppina Giuseppina Tania e Giuseppina di nuovo è da due giorni che lavorano interrottamente qualcuno mi dice da una settimana però devo veramente ringraziare di cuore a queste ragazze a queste persone che si sono attivate per il bene dei nostri cittadini e per questa grande manifestazione oggi all'amico Manoel Scaturro che è il maestro della pecora e non finirà qua. Continua il dramma di via Emerico Amari soprattutto dei suoi residenti e dei suoi commercianti dottoressa come procede questa vicenda lei tra l'altro è un residente procede molto male e la situazione si sta aggravando sempre di più questi lavori sono stati iniziati a gennaio del 2016 appunto di quest'anno e come potete vedere dalle immagini praticamente c'è il nulla i rumori sono insopportabili iniziano alle 7 del mattino e terminano alle 19.30 quando gli operai si fanno vedere quando gli operai non si fanno vedere noi non sappiamo la procedura dei lavori quello che chiediamo noi è al nostro caro amato sindaco caro sindaco Leo Luca Orlando noi siamo per il progresso ma questo è il regresso quello che ti chiediamo noi cittadini di via Emerico Amari in collaborazione anche con l'associazione Cantieri Amari di provvedere a rimuovere se è possibile in questo preciso momento tutti questi lavori dalla città di Palermo e dare delle risposte concrete effettivamente il metodo e come volete procedere per finire nel più breve tempo possibile questo sciampio in queste parole c'era tanta amarezza e tanta tristezza c'è anche da parte di chi vive questa città chi la vive in ogni suo angolo nelle sue periferie nel suo centro storico in arterie principali come erano queste di via Emerico Amari questo era un tratto della città cui approdavano i turisti provando a vivacizzarla a popolarla in tanti anni qui erano sorte anche delle attività importanti che riguardavano l'enogastronomia che riguardavano le ceramiche l'artigianato siciliano quelle attività hanno subito danni ingenti e quei piccoli imprenditori si sono trovati costretti a chiudere insieme a loro attività di ristorazione questo per quanto riguarda il mondo produttivo che credo che sia quella parte della città che con grandi sacrifici tenendo aperte le seraci nef che insieme a tanti liberi professionisti riescono ancora a tenere viva questa città ma parliamo anche dei residenti i residenti sono stati praticamente murati vivi in casa perché questa è la sensazione che si ha arrivando in questo cantiere un cantiere che ormai prende da una punta all'altra della città comprendo questo dolore nel cuore che magari nasce dall'aver scelto permettetemi diciamo di entrare in una dimensione probabilmente più intima e personale che nasce dall'aver scelto una residenza o una dimora come questa al settimo piano della città dove hai sott'occhio dal porto a Monte Pellegrino alla città tutta e pensi per un attimo per ragioni che non riguardano la libera scelta di doverla abbandonare di doverla lasciare per trasferirti in un posto giustamente più salubre un posto più sicuro un posto lontano dalle tragedie dei rifchi che questa situazione ha determinato noi oggi pomeriggio saremmo al sit-in che è in prefettura che vede coinvolto un altro cattivo cantiere come quello che c'è in Viale Lazio ho sentito appena adesso personalmente Patrizia Iddio credo che ci siano una serie di buone intenzioni da parte di tanti che sentono di volersi contrapporre alla cecità e alla sordità di un sindaco dittatore che ci ha ormai fatto a tempo di dimenticare quelle dichiarazioni sul saperlo fare Allora Preside ci chiarisca qual è la situazione e la struttura scolastica Danino Dolci qui a Partini intanto l'istituto Danino Dolci è un istituto superiore che presenta diversi indirizzi presenta l'indirizzo alberghiero l'indirizzo dei servizi sociosanitari l'indirizzo dell'operatore del benessere e l'indirizzo agrario che non è chiuso costa di due classi articolate ancora una seconda e una quinta per un totale di 16 alunni divisi tra la seconda e la quinta le strutture sono oggi quattro e sono tre plessi siti in Partinico uno è il locale dei Cappuccini la sede centrale in via Mameli il plesso di via Catalano e oggi il plesso di Bosco Falconeria ribadisco come ho detto tante volte che il plesso di Bosco Falconeria non è territorio e non è pertinenza dell'azienda già da qualche giorno sono stati richiesti all'Enel i riallacci perché naturalmente erano stati tagliati i contatori dietro e la ditta ha lavorato con un gruppo di continuità mi scusi allora arrivando a questo punto il plesso di Bosco Falconeria quando aprirà quando sarà aperto a tutti gli studenti allora intanto sarà aperto a rotazione agli studenti nei prossimi giorni con la posizione del contatore verrà fatta la pulizia perché i locali già sono stati tutti ultimati normati sono stati creati servizi igienici nuovi tutto il tetto nuovo della tinteggiatura delle aule sono state ripristinate tutte le porte è veramente un bel plesso dove ci sono una decina di aule quindi verrà usato naturalmente come ho già detto e ribadito sia negli articoli giornalistici che in varie interviste verrà usato come polo laboratoriale dunque la preside avrebbe chiarito la situazione del plesso di Bosco Falconeria perché ancora è chiuso perché ancora non ha le chiavi diciamo finalmente nel senso che ovviamente noi siamo dietro a questa vertenza circa sei mesi sono contento che tutto questo insieme all'attività perché non dirlo credo anche seria e determinata di tutto il personale della scuola stia potendo vedere luce è chiaro che arrivare dall'esterno vedere un cartello con i lavori che si sono conclusi già da tempo vedere una scuola in condizioni esterne come dire di abbandono rispetto ovviamente a tutti gli spazi esterni con un percorso anche complesso perché tu arrivi qua e ci sono canneti insomma non lasciava besterare sono contento che questa attività che abbiamo voluto fare in maniera insistente in questi mesi abbia come dire contribuito al perseguimento di obiettivi importanti che la scuola sento dalle parole della preside effettivamente si era data per me venire a Partinico oggi in questo nono giorno di digiuno ha un valore importante perché sto parlando di diritti fondamentali negati in Sicilia per via evidentemente non soltanto come dire di cattivi governi regionali ma per via di un modo probabilmente anche errato di interpretare l'impegno politico in maniera generalizzata l'ho voluto fare parlando di diritto all'istruzione a partire da un fatto concreto perché diritto all'istruzione è il rivolgersi ad un'utenza così vasta come è quella del territorio partenicese lo è facendo leva su temi così importanti come possono essere quello di un istituto agrario che deve poter mantenere la naturale vocazione territoriale di partenico e di questo interland mobilità in deroga allora assolutamente credo che adesso i lavoratori non ce la facciano più ci sono diverse vertenze che riguardano il tema della mobilità a partire da Maxi Living e l'indotto collegato insieme al Coires ho chiesto adesso all'assessore che ho contattato telefonicamente l'istituzione di un tavolo di crisi per la sicurezza in città perché questa città rischia di explode ma una persona che oggi ha 40 anni ha 50 anni ed è stata licenziata va accompagnata e supportata attraverso strumenti di sostegno altrimenti rischiamo di far finire centinaia di famiglie a dormire in macchina qualcuno già c'è e allora che sia chiaro al governo Crocetta che queste spese non può pagarle soltanto il popolo perché poi iniziano dei movimenti difficilmente controllabili e ognuno si assumerà le sue responsabilità come è andato l'incontro stamane all'assessorato del lavoro all'assessorato del lavoro l'incontro come tutti gli altri incontri che abbiamo avuto poco tempo fa in quest'anno soprattutto è andato sempre male il dirigente giustamente allarga le braccia perché ha le mani legate non può 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 prendere una decisione e non può dare soprattutto risposte perché si trova in una situazione campatenaria diciamo ora che cosa vogliamo dire con questo che noi non ci arrendiamo noi continueremo la nostra lotta e voglio lanciare un appello al dottore Miccichè al governo Crocetta che se loro non hanno le capacità di poter governare se ne debbano andare il dottore Miccichè o si dimetta perché noi ci stiamo regando lì sotto l'assessorato del dottore Miccichè I see trees are green red roses too I see them blue for me and you and I say to myself oh wonderful world I see skies blue I see Grazie.